Un'altra proposta che renderebbe circa un miliardo di euro all'anno in entrate nelle casse dello Stato è la cosiddetta pace fiscale per le liti pendenti in materia tributaria. La proposta della Lega è che se sei in lite tributaria con lo Stato e vinci, cioè tu cittadino vinci o in primo grado o in appello, pagando una cifra puoi evitare di andare avanti a vita fino ad intasare la Cassazione. Quindi una sorta di pace fiscale tributaria per i milioni di italiani che hanno un contenzioso in essere. Se perdi paghi quello che devi pagare perché evidentemente avevi torto. Ma se vinci in primo grado o in appello pagando una parte della sanzione hai diritto di chiudere e soprattutto i giudici in Cassazione penso che ci farebbero un monumento perché queste liti stanno intasando la giustizia tributaria in mezzo a Italia. Quindi lo Stato incassa e i cittadini vengono liberati anzitempo. E' una delle tante proposte, magari c'è qualche fenomeno che dice no, no, non è un condono. Se c'è un giudice che mi dà ragione posso chiudere la lite prima di un'odissea che rischia di durare anni. Sono alcuni dei tanti provvedimenti che abbiamo depositato. Grazie.